Il problema è un altro, il problema è quello che dicevate adesso voi, cioè non è che però se è mio dirigente e uno che fa chissà che cosa e se è dirigente di un'altra squadra invece è bravissimo. No, è sempre lo stesso dirigente bravissimo che purtroppo è stato il nostro grande autogol, perché noi ci siamo privati del dirigente importante che avevamo mentre stavamo vincendo, perdendo il nostro vantaggio di costruzione di vittorie e cedendolo un po' ad altri che casualmente erano nel marasma più totale e invece piano piano sono risaliti. Però basta che sia sempre così, non ci sono neanche quando diciamo noi però.